La Giunta ha avuto il tempo per approfondire le ragioni della difesa, così come noi avevamo garantito. Domani si voterà e il Partito Democratico, in coerenza con quanto detto in queste settimane, voterà per la decadenza. Il patto fondativo di questo Governo prevedeva che non ci sarebbe stata sovrapposizione tra il destino personale di Berlusconi e il destino del Governo. Il Governo serve agli italiani e per questa ragione noi riteniamo che questo Governo debba andare avanti e noi saremo strumento efficace di sostegno al Governo Letta.